E io dico con l'anima in tumulto, perché non rendi poi quel che prometti a loro? Dio santo, non ho neanche quattordici anni e ho già una così grande voglia di morire. Cosa faccio al mondo io? Cosa faccio? Amo, amo, amo così miseramente e immensamente che non ho il coraggio di fissare un oggetto per il mio amore.